Buongiorno di questo nuovo video ragazzi sono Ari e oggi siamo qui challenge incredibile assurda dobbiamo guardare un intero episodio di Sanremo senza morire di noia ragazzi ce la faremo ce la faremo come dice Sanremo ce la faremo perciò ragazzi abbiamo il video qui facciamo la challenge non moriremo ragazzi di noia dai ragazzi 3,2,1 troppo swag questo terrone